No, no, no. No, no, no. 3 aprile 1989, 3 aprile 2020. Il comune di San Severo onora i martiri della tragedia della stazione ferroviaria avvenuta nel pomeriggio di 31 anni fa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ripetiamo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vingastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Preghiamo. Ascolta, Signore, le preghiere di noi tutti per questi nostri fratelli martiri che hanno perduto la vita nell'incidente 31 anni fa. La vera fede li associò al popolo dei credenti. La tua misericordia li unisca all'Assemblea dei Santi nella dimora di luce e di pace per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda loro la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Anche quest'anno, anche se in questa forma semplificata, senza la presenza degli amministratori locali, senza la presenza dei familiari e dei colleghi che puntualmente ogni anno vengono a rendere omaggio alle persone, cittadini di Sansevero e non solo di Sansevero, che il 3 aprile del 1989 hanno perduto la vita a seguito della tragedia ferroviaria che coinvolse la nostra stazione. In modo simbolico e semplificato, anche quest'anno, il Sindaco, a nome di tutta la città che è collegata in diretta, che ci segue, vogliamo portare il nostro abbraccio fraterno, affettuoso, ai congiunti, ai parenti, agli amici di Padalino, Iannitti, Carafa, Ogni Santi, Vaciarelli, Danello, Accettulli, Capotosto. Persone che persero la vita perché quel giorno il fato, il destino, li portò proprio nell'attimo in cui il treno deragliò rovinosamente sulla stazione di Sansevero, ad essere qui, in questo luogo, come chiamati ad un appuntamento con la morte. Lo facciamo in un momento particolarmente difficile per la nostra città, ma per il mondo intero. voglio anche ricordare in questo momento il dolore dei familiari, degli amici, dei congiunti, di quelli che hanno perso la vita nella nostra città a seguito di questa pandemia che ci sta tenendo in ansia, in apprezzione. E io mi auguro che possa, quando prima, terminare questo momento. Voglio cogliere l'attimo per unire il dolore di queste persone morte 31 anni fa con le persone che sono morte nei giorni scorsi. Alcuni di loro magari rendendo il servizio come medico oppure rendendo un servizio alla comunità. Il dolore di queste persone oggi è il dolore della nostra città che simbolicamente è rappresentata dal sindaco, da questa fascia tricolore che con onore e con fierezza e con orgoglio indosso, proprio perché non cada nell'obbligo del tempo. La sofferenza di queste persone che hanno perduto i loro cari 31 anni fa e ci adopereremo, come già detto, a che anche il dolore delle vittime del Covid-19, di questa pandemia, non cada nell'obbligo del tempo. Quindi ci sarà sicuramente un luogo dove simbolicamente tutta la città ricorderà queste persone. Come quel pomeriggio di 31 anni fa ci fu una mobilitazione da parte della città, una mobilitazione in termini di solidarietà, di soccorso, di aiuto, a scavare a mani nude tra le macerie, alla ricerca di un respiro, alla ricerca di una persona ancora vivente. Bene, quello stesso contesto, quello stesso scenario, la stessa gara di solidarietà di 31 anni fa, noi la stiamo vedendo in queste ore e in questi giorni, a riprova di un cuore grande, di slanci di generosità e di altruismo di cui la nostra gente è capace nei momenti di bisogno e di sofferenza. E questo deve essere motivo di orgoglio di tutti quanti noi. 31 anni fa io ero un ginnasiale e ricordo che eravamo qui vicino al liceo classico a fare le nostre attività pomeridiane quando le nostre attività didattiche furono interrotte da un boato che veniva dalla stazione ferroviaria. Tutti quanti venimmo in questo luogo e io ricordo quel ricordo di un ragazzino che con i suoi amici videro una città mobilitarsi integralmente, tutti, qualunque appartenenza sociale, ognuno faceva quello che poteva fare, mettersi a disposizione, come dicevo prima, per scavare, per trovare una vita e magari salvarla dal decesso e dalla morte. Ed è quello che sta accadendo in questi giorni. Sansevero sta dando prova di una gara di solidarietà, tutti si mobilitano per combattere l'indigenza economica, sociale, la sofferenza, l'isolamento che riguarda gli anziani, che riguarda i diversamente abili. e questo è un motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio per me che sono il sindaco. Quindi noi oggi ricordiamo quella giornata, lo ricordiamo sempre con commozione, voi sapete che una delibera di qualche anno fa ha istituzionalizzato questa giornata, quindi in ogni tempo il sindaco della città di Sansevero, l'amministrazione comunale, la cittadinanza verrà la mattina del 3 aprile di ogni anno a rendere omaggio alla memoria di queste persone e ad abbracciare i loro familiari a cui diremo ogni anno noi vi vogliamo bene e vi siamo vicini seppur a distanza di così tanti anni. Allora io spero che l'anno prossimo riusciremo come ogni anno e sono convinto di questo riusciremo anche l'anno prossimo a fare la nostra cerimonia in pompa magna così come la facciamo con la presenza dell'orchestra dei fiati città di Sansevero con la presenza dell'amministrazione comunale nella sua integrale compagine con la partecipazione dei familiari e dei cittadini. quest'anno le leggi le norme ci impongono di farlo ma noi ritenevamo che nonostante in questa forma semplificata e con partecipazione minima noi dovevamo rendere omaggio a quel sacrificio e essere qui presenti a ricordare questi nostri fratelli questi nostri concittadini che hanno perduto la vita il 3 aprile del 1989 chiedo a tutta la città in questo momento chi è in diretta di osservare un minuto di silenzio in memoria appunto di Padalino Iannitti Carafa Ogni Santi Vaciarelli Danello Accettulli e Capotosto Grazie a tutti Buona giornata a tutti quelli che ci hanno seguito mi raccomando coraggio forza determinazione noi siamo gente con la pelle dura e supereremo anche questo momento buona giornata a tutti grazie a tutti